Acipe annulum, temanum petri et nobilias direzione principis apostolorum, direzione in tua nerga ecclesia roborale, ad onore dei onipotenti sex santorum apostolorum petri et pauli, divi comitimus titulum santi, dome apostoli, in nomine patris et fili et spiritus santi. Nelio 10 minuti 10 minuti 14 minuti 12 minuti 12 minuti Grazie a tutti